Signore e signori, adesso sentiranno la storia di un amore contrastato che si svolge tra i comignoli come il terzo atto della boeme. Voi vedrete il poeta che con le gelide mamine nelle tasche aspetta l'amore contrastato che abita a piano di sotto e che per venirlo a trovare è scogita un diabolico sistema. Carmela è una bambola e fa amore con me, ma ho fatto è terribile, ma ho fatto lì, allora ci ho trovato, non bello ritrovato, Carmela fa sonnambola per me venire a trovare e fa scema a mamma. Eh no, farà scema a lui, ma figuratevi le sciocchezze che gli racconta se fa la sonnambola. Ma che avete capito? Carmela non fa la sonnambola di fachirismo che legge la mano, fa la sonnambola di patologia col camice bianco come potrete osservare su questa figura qui presente. E se si sveglia all'improvviso? Ma chi si sveglia all'improvviso? La sonnambola, se è sonnambola dorme no? Guarda qui c'è sta uno che dorme, siete voi? Non è vero, non è vero, io so che i sonnamboli se si svegliano all'improvviso muoiono in un colpo. E adesso vi sbagliate, perché questa volta chi muore di colpo è solamente la madre che svegliandosi all'improvviso trova la figlia sul testo confidanzato. Ma non vi vergognate, state facendo l'apologia del matricidio. Ma quale apologia signori, sto facendo un'ipotesi. Ah sì? E io vi faccio una denuncia, così quando state in galera vi mangiate le mani. Eh no no, io le mani non me le mangio, mi mangio l'invernizzina. Un formaggio fresco? Invernizzina Un formaggio burroso? Invernizzina Invernizzina, doppia panna piace a tutti. Invernissina di Invernissi, fa ferma mille più di uviti e poi balla la tua gola e il tuo stomaco quando la cina mancia canterà. Invernissina di Invernissi, che è contatto lontolo, 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 lontolo.